venerdì della prima settimana di quaresima dal vangelo secondo matteo in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli se la vostra giustizia non supererà quella degli scrivi e dei farisei non entrerete nel regno dei cieli avete inteso che fu detto agli antichi non ucciderai chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio ma io vi dico chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della genna se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te lascia lì il tuo dono davanti all'altare va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui perché l'avversario non ti consegna il giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione in verità io ti dico non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo commento al vangelo del giorno di don luigi maria epicoco è troppo poco per il vangelo essere giusti noi dobbiamo essere molto più che giusti poiché io vi dico se la vostra giustizia non supera quella degli scribe dei farisei non entrerete nel regno dei cieli la giustizia di questo mondo coincide con il semplice stare alle regole è una giustizia che salva innanzitutto la forma ma la verità è che la giustizia che ci viene dal vangelo è una giustizia che supera anche le misure delle regole della forma è una giustizia che va alla sostanza delle cose e molto spesso questa sostanza è nascosta a una lettura meramente superficiale della vita compiere il proprio dovere ci rende giusti ma amare ciò che si fa ci rende cristiani è l'amore che fa la differenza non basta non uccidere qualcuno con le proprie mani bisogna ricordarsi che ci sono tanti modi per uccidere il proprio fratello ad esempio ignorandolo dimenticandoci di lui denigrandolo parlando male mostrare agli altri le sue debolezze ridicolizzarlo tutte queste cose non le troviamo nel codice penale ma davanti alla parola di gesù ognuna di queste cose è grave come un omicidio può sembrare un'esagerazione ma la verità è che il vangelo vive di questa misura esagerata ecco perché c'è bisogno di un'intelligenza molto più profonda nel giudicare le cose è quell'intelligenza che ci ricorda che ha un assenso offrire a dio qualcosa se si ha qualche conto in sospeso con il proprio fratello dio guarda la nostra capacità di amare non la nostra capacità di cadere in piedi